Buon pomeriggio da Andrea Cartotto. Continuiamo a parlare di didattica a distanza, la cosiddetta DAD, e impariamo a conoscere una ottima piattaforma per la gestione della classe e delle lezioni digitali, implementata e fornita gratuitamente per tutti gli istituti scolastici d'Italia che ne fanno richiesta dalla Fondazione Franchi. Nel banner che potete trovare qui sotto questo video che sta scorrendo si trova il sito www.fondazionefranchi.it che con un clic sul pulsante formazione online permette di compilare dei campi con i dati dell'istituto e richiedere ad esempio la partecipazione ad un webinar informativo. Quali vantaggi ha Hub Digitale di Fondazione Franchi. Il primo vantaggio è che si basa su un motore di software libero, quindi è già rispondente all'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, analisi comparativa delle soluzioni. Se io ho una piattaforma come questa per fare didattica, io la vado a preferire rispetto a soluzioni proprietarie. Il secondo punto importantissimo, e lo vedremo tra un istante, è che l'insegnante ha il pieno controllo della classe, di quegli elementi che riproducono in digitale il contesto classe dal vivo. Inoltre c'è un altro aspetto molto importante che è la tutela della privacy che la piattaforma offre circa i dati dei minori, perché noi la andremo ad impiegare nei diversi ordini e grado di istruzione con allunni minori. Il sito, lo ricordo, è www.fondazionefranchi.it, mentre, ed ora andiamo più nello specifico, sul sito hub.fondazionefranchi.it, qui c'è questa piattaforma di test che mi è stata messa a disposizione da Fondazione Franchi, si chiama Hub01, io vado a fare ciò che fa il docente quando entra in classe. Naturalmente occorrerà iscriversi, ma in questo caso io vado a cliccare su Entra ed inserisco le credenziali che ho utilizzato per la registrazione. In questo caso vado ad inserire l'account che ho scelto di utilizzare, quindi un account istituzionale, vado a digitare la mia password e clicco su Entra. Possiamo cliccare su Accetto in Fondo, in realtà è il classico banner, quindi il classico avviso che l'Unione Europea ci invita, come sapete, nei vari siti a inserire per l'accettazione dei cookies e non solo, quindi il nostro trattamento dati. Eccoci arrivati a destinazione. Noi avremo delle stanze e la stanza in realtà rappresenta la nostra classe. Attenti, non la disciplina, proprio la classe. In questo caso io ho creato delle stanze di esempio e guardate com'è semplice. Allora già qui se io clicco sul mio formazione docenti, una stanza di esempio che ho utilizzato e utilizzo per formare i colleghi sulla didattica digitale e non solo, ecco il link di invito. Posso selezionarlo se ho piacere con il tasto sinistro premuto o fare un clic su copia e quindi vi dicevo questo link di invito univoco, lo comunico ai miei destinatari, dunque agli alunni. Cosa importantissima? Io lo posso comunicare, ma se l'insegnante non ha avviato la lezione, nessuno entra e nessuno rimane all'interno della classe. Tant'è vero che la lezione inizia solo nel momento in cui io vado a cliccare su avvia. Molto importante rispetto anche a soluzioni alternative in questo momento impiegate. Guardate come semplice. Mi viene chiesto in che modo si vuole partecipare. Partecipiamo tutti con la modalità microfono e a questo punto c'è un modesto test audio, 1, 2, 3, prova, clic sul pollice verde, siamo a lezione. Nella nostra piattaforma abbiamo parto da sinistra, l'elenco degli utenti e dunque la classe, la possibilità di chat pubblica o privata con i singoli alunni, la lavagna esplicativa, questa è quella predefinita che mette già a disposizione Fondazione Franchi in forma di slide, e se notate, scorrendo sulle frecce, io ho già dei fogli bianchi su cui potrei lavorare e questa lavagna la vedono tutti i destinatari, tutti gli alunni. L'insegnante attiva la sua webcam con un click sul pulsante a forma di telecamera, clicca avvia condivisione e in questo momento lui rimane, come giusto per non distogliere l'attenzione, in cima alla lavagna, mentre, lo ricordo, gli alunni debbono essere con la webcam spenta, a parte un momento iniziale per i saluti, o se vengono chiamati e dunque interrogati per cui si palesano e con il microfono spento lo attivano quando devono partecipare. Perché ho precisato già nella mia introduzione che c'è il pieno controllo della classe? Perché il docente ha da subito una serie di facoltà comode e nelle sue mani. A questo punto, vedete dove c'è utenti, io avrò i miei allievi. Gli allievi sono di forma rotonda, mentre il docente ed anche il co-docente di sostegno hanno la forma quadrata. Se io clicco sull'ingranaggio sopra gli utenti, la rotellina, io ho la possibilità di fare che cosa? Di silenziare tutti gli utenti, il brusio in classe. Di silenziare, come è corretto fare, tutti gli allievi, eccetto il docente presentatore. Di salvare la lista dei partecipanti alla mia lezione, farò comunque l'appello, ma ho anche in un file di testo un riepilogo che posso archiviare. Il blocco degli spettatori, e questa è una funzione interessantissima, perché io posso valutare se visualizzare o meno le webcam degli altri utenti. Inibisco la possibilità per l'allievo particolarmente esuberante di accendere la webcam e non rispondere ai nostri dettami. Posso anche valutare di bloccare la chat pubblica, così come bloccare la chat privata. Con un solo clic su applica vado a dare queste indicazioni, nel mio caso cliccherò su annulla. Prime funzioni praticissime per gestire al meglio la lezione, ricordando che nessuna piattaforma immune dà il controllo che esercita l'insegnante all'invio della lezione. Quindi l'insegnante non appena si inizia fornisce le linee guida, che vanno poi fatte rispettare dagli alunni, ma qui interviene hub, perché ci dà gli elementi utili per intervenire, praticamente. Stiamo già svolgendo la nostra lezione, io faccio un clic sulla mia freccina e do pagina 2, lavagna bianca. Vediamo che ho la possibilità di attivare addirittura una lavagna multiutente, per cui posso far disegnare all'alunno che io interpello e che interrogo un segno, quindi gli posso far tracciare un segno intorno alla risposta che ritiene corretta, posso fargli tracciare una freccia, insomma è estremamente interattiva la piattaforma senza applicazioni di lavagna digitale esterne. Se io clicco sulla manina strumenti, ecco a disposizione i classici strumenti da lavagna. Il tratto, la matita, massima naturalezza se il docente utilizza una tavoletta grafica, la forma geometrica rettangolo, la forma geometrica del triangolo, la forma del cerchio, la linea e la T di testo per inserire testo dattilo scritto, per cui la nostra lezione è realmente efficace. Pensiamo alla possibilità di creare una mappa o uno schema visibile nell'esatto identico momento da parte degli allievi. Clic, io tengo premuto il disegno, vedete quel puntino rosso, è il puntatore laser tipico delle applicazioni di presentazione che segna il punto in cui io sto passando. Lascio il tasto sinistro e vado a digitare, in questo caso prepariamo la nostra casella di testo e andiamo a parlare di rodari perché ad esempio tratto una lezione per la scuola primaria. Rodari. Dopodiché, io richiamando lo stesso strumento, guardate l'interazione pratica come è semplice, clicco su matita, vado a tracciare una mia freccia, in questo caso con il mouse, dunque ecco una freccia gemella. La grafia ne risente ma, vi ripeto, è sufficiente adottare una tavoletta grafica, ma ricordo che Hub è in realtà multipiattaforma, dunque utilizzabile anche su dispositivi mobili, smartphone e tablet, anche con connessioni così così, situazione che si verifica molto spesso nelle nostre classi e nei nostri plessi scolastici. Mediante il pulsante delle quattro frecce è possibile avere la lavagna a schermo intero, così come l'insegnante, ma anche gli allievi, ha la possibilità di abbassare con il trattino la lavagna o richiamarla con un clic sul pulsante a destra a forma di telo ripristina presentazione. Abbiamo anche un bidone, il bidone ci permette di cancellare rapidamente le annotazioni, abbiamo la possibilità di scorrere tra le diverse pagine della lavagna bianca, messa a disposizione in maniera standard, di default, come si usa a dire da Fondazione Franchi, ma possiamo caricare in formato pdf, preferibilmente, ma viene gestito anche il formato presentazione, un nostro file di presentazione, dunque anche una nostra lavagna personalizzata. Guardate ancora la praticità di utilizzo. Intanto, con un clic su avvia registrazione, io ho la possibilità, dal momento in cui decido, e senza distrarmi perché è sopra la mia testa, di avviare la registrazione. La registrazione resta privata in capo al docente, sarà il docente che la invia in visione ad un alunno assente e in maniera strettamente riservata perché la invia via mail con l'indirizzo email dell'allievo destinatario. Inoltre, inoltre, io potrei far partecipare gli allievi anche con un loro soprannome, no? Con un cosiddetto alias. Però teniamo già conto che questa piattaforma non lascia traccia sul server. Cioè l'impronta digitale che noi stiamo lasciando, ecco perché ho parlato di grande riservatezza, è realmente misurata. E questo è un punto, senza alcun dubbio, di forza, oltre alla facilità di utilizzo. Il quarto pulsante, che ora vi vado ad illuminare, ed io lo sto già utilizzando durante, insomma, la mia registrazione. È un pulsante per condividere lo schermo, quindi in maniera semplicissima, con un click, io potrò scegliere di visualizzare l'intero schermo, una finestra dell'applicazione, oppure una singola scheda del browser. Se vedete ora, mi ha detto giustamente errore, perché siccome io sto già videoregistrando questo mio videocorso, no? Questa recensione di hub, e io due cose in uno non le posso fare. Ma il docente, in realtà, ha la sua lavagna, condivide lo schermo con gli allievi e magari sotto ha il libro digitale, aperto mediante il browser, fa click sul quarto pulsante, click, fa click su il tuo intero schermo, sotto ha il libro digitale e svolge la sua lezione. Certo che la lavagna è comoda, perché è una classica funzione che dalla scuola primaria in su, per non dire dalla scuola dell'infanzia, in questo caso bambini con al fianco i genitori, si rivela estremamente utile. Ecco i punti di forza, nonché il pulsante, vi dicevo, di avvio della registrazione. Se è bianco, sono certo che non ci sia registrazione. Se è rosso, come nel caso di una telecamera, comunica a tutti i partecipanti che stiamo registrando. Ok? Vi mostro un secondo ancora l'ingranaggio, proprio per farvi vedere che io, al termine della lezione, ultimo ad uscire, quando comunque sono usciti tutti gli alunni, posso cliccare su salva lista nomi utente, mentre ancora ci salutiamo, insomma, verifico un attimino il numero dei presenti, salvo questo file e lo tengo da parte. E ho un riscontro ulteriore all'appello. Ma la cosa efficacissima è che quando l'insegnante esce dall'aula, nessuno rientra senza il suo permesso, perché con un clic sui tre pallini, attenti bene, io non dirò esci, ma dirò fine meeting. Con il fine meeting termino completamente la mia sessione di lezione, la classe ha la porta chiusa. Di sera, in momenti privi del controllo del docente, l'alunno non rientra a chiacchierare o a sbeffeggiare il compagno. Cosa molto importante, così come la possibilità che ho raccontato prima di avere la chat pubblica sempre visibile, di disabilitarla al bisogno o di disabilitare la chat privata. Ma l'insegnante può scrivere in privato ad un eventuale allievo che nomini moderatore, ad esempio, perché lo nomina capoclasse. Quindi internamente alla classe, lo nomina capoclasse per essere di supporto, possono dialogare, così come gli alunni possono scrivere in privato al docente senza che tutto passi dalla medesima chat. Ecco come la piattaforma Hub risponde concretamente al bisogno di una qualsiasi classe. Se io vado a cliccare sul più, solo per mostrarvelo un secondo, io posso gestire un sondaggio, cioè in tempo reale tengo destra l'attenzione, in realtà la mia è una attività di verifica dell'apprendimento, colgo la distrazione dell'alunno perché lui ha quattro pulsanti e quattro lettere li deve pigiare per partecipare e dirmi la sua. Se non risponde, lo vedo. Dunque posso supporre che non ci sia, anche se magari ha la webcam spenta, ok? Gestisci presentazione, il caricamento di lavagna o materiali e ancora più bello la condivisione di un video esterno perché io clicco e posso inserire il link all'esterno, quindi prendo un indirizzo web di un video su YouTube e il video scorre integralmente davanti alla nostra lavagna. Ed ora ve ne mostro un esempio. Andiamo un pochettino a fare proprio questo tipo di simulazione, per cui guardate un attimo come ci andiamo a muovere. Noi abbiamo il nostro schermo, io apro una scheda del mio browser e vado su youtube.com, vado a scegliere per esempio un video per la scuola primaria, siamo YouTube sulla mia piattaforma. Ecco il caricamento, copio in alto l'indirizzo web, tasto destro copia, in hub, clicco sul più, clicco su condividi un video esterno, clicco nella mia riga bianca con il tasto destro e dunque con il sinistro su incolla, un clic su condividi un nuovo video e ecco in formato lavagna con il mio pieno controllo la filastrocca di Gianni Rodari. La posso mettere in pausa, posso chiedere agli allievi se hanno capito senza ricorrere a schede esterne, cioè sono dentro la mia lezione. Nel momento in cui ho terminato e posso anche riprodurre il suono della campanella, per cui guardate, è sufficiente cliccare su campanella. Io prendo il video classico della campanella della scuola, seleziono, tasto destro copia, guardate che cosa simpatica, clicco sul più, interrompo la condivisione di un video esterno, voglio far suonare la campanella, clicco sul più, clicco condividi un video esterno, clicco con il tasto destro nella riga bianca, tasto sinistro su incolla, condividi ed ecco la campanella. Bene ragazzi, la lezione è terminata, un saluto, vi aspetto domani. Attendiamo che tutti gli alunni siano usciti, nel momento esatto in cui chiudo la porta, clicco sui tre pallini, clicco su fine meeting, sì, l'aula ha la porta chiusa, clicco su ok e tornerò alla mia pagina principale di hub. A questo punto sono assolutamente nella piena disponibilità della mia piattaforma e posso cambiare stanza, dunque se cambio classe e posso muovermi con hub, con pieno controllo. Un caro saluto e l'augurio di un buon pomeriggio da Andrea Cartotto.